Il terremoto è un evento che può colpire quando meno te l'aspetti ed è per questo che la Residenza Molino-Dro hanno deciso di non farsi trovare impreparati. Una scossa? Ragazze! Una scossa forte! Salve, sono le femmine della Residenza Molino-Dro. È una prova d'emergenza. Forte scossa di terremoto. Ci sono stati dei crolli probabilmente. Siamo chiamati a punto aperto il terremoto. Nocci, 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 nocci. Monica è riuscita. L'apertura anche di copertura ai cucini, perché c'è i codi? Allora, c'è la protezione. Ci sono due feriti qua. Tutti e due coscienti. Uno è qua. Uno è qui sotto. Uno è qua. Un'altra sicurezza. Mettendo una seta! Carica! Uno, due, tre. In fila! In fila! Stiamo scendendo per l'altra partenza dal terzo interno piano stivalizzata con una partenza esposta alla gamba sinistra. Allora! Ok, un attimo. Due gialli. Un giallo e un giallo. Questo è un rosso. Questo? Ah, sì. Un giallo. Un giallo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.